L'attesa del popolo intanto cresceva e tutti si domandavano in cuor loro se Giovanni fosse il Messia. Giovanni rispose io vi battezzo con acqua ma viene uno che è più forte di me al quale non sono degno neppure di sciogliere i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in spirito santo e fuoco. Tutto il popolo si faceva battezzare e fu battezzato anche Gesù. E mentre stava in preghiera il cielo si aprì e lo spirito santo discese su di lui in forma corporea come colomba. E vi fu una voce che venne dal cielo tu sei il figlio mio amatissimo in te io mi compiaccio. Grazie a tutti.